Va bene, allora mi presento, mi chiamo Emalloru sui social e faccio video su YouTube, ne faccio uno al mese e cerco di raccontare delle storie cambiando tematica di volta in volta, cerco di toccare temi che mi colpiscono personalmente o mi interessano e quindi voglio raccontarli col mio stile. Come li decidi, i vari video, le varie tematiche anche da affrontare? Spazio, quindi a volte parlo di tematiche come la disabilità che mi affascina molto, mi piace molto raccontarla col mio stile che è molto dissacrante, c'è poca commiserazione. Anche molto diretto. Molto diretto, sono diventato molto amico di una ragazza cieca, cieca non vedente, non della Repubblica, che mi ha mostrato come lei vede il mondo, che è una cosa che vuol dire come vede il mondo. Eppure anche una persona cieca costruisce un mondo utilizzando il cervello, come quando sogniamo, abbiamo gli occhi chiusi, però il cervello costruisce immagini. Quindi in qualche modo mi piacciono queste tematiche, oppure il mondo dell'arte, insomma, spazio, argomenti di volta in volta. E tramite questi video, comunque anche grazie ai social, si può riuscire un po' a sensibilizzare su questi temi? Si riesce a smuovere qualcosa? Spero di sì. Però il punto è che quando hai un pubblico sul web hai una responsabilità enorme, che è la stessa di avere un programma televisivo dove c'è un pubblico affezionato che ascolta con attenzione quello che dice. Poi ovviamente col tempo si può anche deludere quella fiducia, però in qualche modo io cerco di sfruttare i miei canali per raccontare cose che mi piace raccontare. Però lo faccio con la consapevolezza che le cose che dico in qualche modo hanno un impatto. Perché magari, sai, vedi la prima volta un mio video e dici ma che sto scemo. La seconda volta, poi inizia ad affezionarti, è ovvio che se io prendo una posizione su qualcosa, quella cosa condiziona. La parola influencer penso che sia nata per quello. Non ce la diamo oggi che... Però nasce da qui anche un tuo progetto che si chiama Alla cieca. Ce lo racconti più nello specifico? Io ho parlato della persona cieca a caso, non sapevo che era in scaletta, dovevo ripassare le domande. Allora sì, l'anno scorso mi sono trovato a Torino e tramite una serie di passaparola sono arrivato a questa ragazza che si chiama Dayana, che è una ragazza di 30 anni che ha perso la vista a 16. Ero abbastanza a disagio, sinceramente, quando l'ho conosciuta, perché non sapevo come comportarmi, cioè non sapevo se aiutarla, la fissavo di continuo sapendo che lei tanto non poteva accorgersene. Però poi quando ho iniziato a instaurare un rapporto con lei ho capito che la disabilità in realtà è solo un modo di avere un'esperienza di essere vivi diversa. È come se vivessi in un mondo diverso, un pipistrello, non vede, ragiona con gli infrarossi, gli ultrasuoni. Come ragiona? Il pipistrello come fa? Vabbè, comunque... Era il coccodrillo in realtà, poi. Il coccodrillo come fa? Non è il pipistrello? Il pipistrello in qualche modo fa, che io sappia. Sono sicuro che diventeremo molto amici quando smetterai di... Scherzo. Però ecco, il punto è che mi piaceva molto l'idea di raccontare questo mondo e lo abbiamo fatto, però in maniera abbastanza dissacrante. Lei mi ha detto, ma tutte le volte che attraverso la strada un semaforo non ha il segnalatore acustico, sapete quel cosino schiacciato e fa prr, 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 no? Quella cosa è indispensabile per fare in modo che una persona sappia se è verdo-rosso, che magari per noi chi se ne frega, cioè possiamo anche passare con rosso se non ci sono macchine. Per una persona cieca o ipovedente è un problema concreto, perché tu ti senti... Sei terrorizzato dall'attraversare la strada perché magari una macchina ti svolta all'improvviso, ti falcia. Quindi lei mi ha detto, siccome siamo tanti, 300.000 persone cieche in Italia, e 900.000 ipovedenti, quindi più di un milione di persone, gli ipovedenti sono quelli che hanno una capacità visiva molto ridotta. Facciamo qualcosa. Ho provato a sfruttare i miei canali per mettere in scena un atto vandalico molto grande, dove ho coinvolto 40 volontari e abbiamo imbrattato tutti i semafori con un adesivo rosso, non sulle luci, sul palo, però nell'adesivo c'era scritto questo semaforo è sempre rosso, come cazzo fanno ciechi e ipovedenti? Potevo bipparla, però c'era scritto questo nell'adesivo. E poi c'era un QR code che spiegava tutta la problematica. Abbiamo fatto questo, l'abbiamo raccontato con un video YouTube che ha lo scopo di intrattenere, però ha il tempo stesso di informare, e poi la notizia è stata riportata da altri media e in qualche modo abbiamo sfruttato un canale di divulgazione per cercare di dare una mano a una categoria di persone che purtroppo tutte le volte che cerca di far passare un problema viene sempre raccontato con commiserazione, la gente un po' si rompe le scatole, si impietosisce, però dice vabbè, che ci posso fare? E quindi a me piace molto l'approccio, un po' anche fuori dagli schemi. E' quello che magari poi, no, la rottura, che è quello che colpisce, accende l'interesse delle persone, soprattutto questo modo qua che hai abbastanza diretto. Tu in un'intervista hai detto che hai fatto una sorta di downgrade. Cosa è che ti ha spinto a fare questo downgrade, a fare quello che fai? È stata una bella paraculata dire downgrade, perché io ho fatto il regista di pubblicità per cinque anni, poi siccome non ero tanto bravo e la mia azienda è pure fallita, allora ho detto faccio video su YouTube e poi per farmi bello ho detto No, dici la verità. No, è questa la verità, però ecco, faccio finta invece di fare il supereroe. A un certo punto della mia vita ho capito che YouTube probabilmente è ciò che più mi appaga e mi diverte, molto più di fare serie TV o documentari o qualsiasi altra figura autorevole nel percepito, ma che in realtà non mi diverte, a me diverte. Tirare fuori il cellulare in questo momento, facciamolo, e vloggare una cosa che poi potrei riutilizzare. Aspetta, questa frase è molto bella, la ripeto uguale. Chuck 2. Cioè a me piace moltissimo il fatto di poter tirar fuori il cellulare in qualunque momento e poter raccontare qualcosa che sta succedendo davvero. Che intonazione. Vabbè, comunque, a parte la gag, è un nuovo linguaggio ed è un linguaggio che è ancora molto sottovalutato, percepito quasi con... Allora, ci hanno fatto l'intervista televisiva, sono stati simpaticissimi e non voglio ovviamente... Però percepivo che c'era sempre quella roba... Bravi ragazzi, giocate, divertitevi. Ma caspita, siamo tutti pionieri, anche voi. Se avete un vostro canale YouTube, un progetto Instagram, qualunque roba dove raccontate, anche voi siete pionieri di un nuovo linguaggio e ognuno di voi può diventare un'emittente televisiva che in qualche modo può avere, potenzialmente, se lo volete, se vi serve, se utile, un grande pubblico. E questa è una roba... Oggi siamo pionieri, dieci anni fa gli YouTubers erano ancora di più e probabilmente anche tra dieci anni lo saranno. Se già il cinema ha un secolo, è un linguaggio nuovissimo, figurati internet, non ha regole. Le cose possono essere raccontate in mille modi. Quindi per me è una gran responsabilità dover, con questo tono di voce molto motivational, dire che fare internet è potente.